Scopo del progetto DESAL è la realizzazione di membrane porose per la desalinazione delle acque. Queste membrane funzioneranno di fatto come dei filtri molecolari che saranno in grado di lasciar passare le molecole di acqua e non lasciar passare i sali in essa risciolti. Il principio di funzionamento è piuttosto semplice. Una pressione esterna spingerà una soluzione salina attraverso la membrana porosa e se i pori della membrana sono sufficientemente piccoli, cioè dell'ordine della scala nanometrica, solamente le molecole di acqua passeranno attraverso la membrana e non i sali in essa risciolti o le imporità eventualmente presenti. Al fine del processo quindi si raccoglierà a valle della membrana acqua purissima che non conterrà più nessun tipo di impurità. In particolare in questo progetto utilizzeremo dei metodi di simulazione per riuscire a ricavare le condizioni ottimali per avere un grafene a porosità controllata. Questo permetterà di realizzare membrane estremamente sottili caratterizzate da un'elevata efficienza di desalinizzazione ed economicamente più conveniente rispetto a quelle attualmente utilizzate. I risultati ottenuti potranno avere numerose applicazioni che vanno dalla potabilizzazione delle acque all'abbattimento della salinità in acque di mare. In particolare il nostro progetto è molto importante non solo per le industrie italiane ma anche per tutti quei paesi dove ci sono scarse risorse idriche che potranno quindi utilizzare l'acqua di mare sia per la potabilizzazione sia per gli impieghi agricoli. Mi chiamo Giancarlo Cicero e lavoro presso il Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologie del Politecnico di Torino.